Nell'ambito dell'attività di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Gioia Tauro, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria e con il coordinamento della Procura della Repubblica e Direzione Distrettuale Antimafia, hanno individuato e sequestrato 932 kg di cocaina purissima, stivata in un container che trasportava cozze surgelate provenienti dal Cile e divisa in 800 panetti all'interno di 37 borsoni. Attraverso una complessiva e articolata attività di analisi di rischio e riscontri fattuali su oltre 2200 contenitori provenienti da un continente americano, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari doganali, con l'ausilio di sofisticati scanner in dotazione dell'Agenzia delle Dogane, sono riusciti ad individuare quelle in cui era stato nascosto lo stupefacente. Il carico sequestrato di qualità purissima avrebbe potuto essere tagliato dai trafficanti di droga fino a quattro volte prima di mettere lo stupefacente sul mercato, fruttando un introito di 186 milioni di euro. Le modalità di occultamento dello stupefacente sono sempre differenti e in continua evoluzione, obbligando le dogane e le fiamme gialle a perfezionare di volta in volta le metodologie operative. Un'attività che testimonia la costante ed efficace azione posta in essere la Guardia di Finanza per il contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, con particolare riguardo al porto di Gioia Tauro, in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, direzione investigativa antimafia diretta dal dottor Giovanni Bombardieri.